Basta, è durata fin troppo, James. Ora è a casa sua, lasciala in pace! Non posso farlo. Non c'è bisogno di arrivare a tanto. Non ho scelta. I tempi sono cambiati. Ma rapire dei bambini? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa azienda! E metterò a tacere chiunque mi sbarrino strada! No!